È un comportamento anche a tutela delle funzioni, delle prerogative della Giunta, nel quale noi comunque crediamo molto che deve essere un organo assolutamente imparziale, che deve avere le sue prerogative. Questo fatto di non aver accolto le supplementi istrutture da noi richiesti pone ovviamente un forte dubbio sulla possibilità anche di esprimersi allo stato delle cose e dal termine, come è stato ricordato, di due deroghe che sono passate nella Giunta del Regolamento naturalmente che peseranno ovviamente anche sul futuro dei lavori di questi organi. Quindi noi siamo molto coesi nel respingere, tra l'altro, e bisogna stigmatizzarlo, il fatto che ci sono stati mutamenti di comportamento da parte dello stesso Salvini rispetto al fatto o meno di farsi processare. E quindi ci aspettiamo anche che nella Giunta possa depositare una memoria in cui lui porti elementi che possano giustificare, possano avvalorare la sua volontà di farsi processare e che mantenga lo stesso atteggiamento in aula quando sarà il momento.